Amici e amiche, salve a tutti, come sempre ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come effettuare una prima approfondita pulizia di un oggetto particolarmente sporco. Nella fattispecie, per farvi comprendere, l'oggetto in questione è questo qui, questo blocco di metallo, che altro non è che la pinza dei freni del mio veicolo. Per via della sua natura, della posizione in cui si trova montato sotto al veicolo, ovviamente nell'arco della sua vita va a raccogliere di tutto, quindi da quello che è la semplice terra, catrame, oli, grassi, l'olio stesso del liquido frenante che allo smontarlo è un pochino fuoriuscito e ha imbrattato la sua superficie. Insomma, c'è veramente di tutto. Andare a ripulire la parte esterna è veramente un qualcosa di ostico, complicato, se pensiamo di andarci semplicemente con acqua e sapone. Ora, diciamo che normalmente quando dobbiamo andare a pulire parti meccaniche ci sono dei prodotti in commercio che vengono, per così dire, spacciati, passatemi il termine, per prodotti ad hoc, nati per questo utilizzo, che però hanno la sventura di costare un occhio della testa. Sono prodotti professionali, sono prodotti che vanno acquistati spesso e non volentieri in confezioni da 10, 20, 50 litri e chiaramente per un utente normale, uno che non è un professionista di quello che è la meccanica, andare a comprare un quantitativo congingente di detergenti diventa proibitivo. Io da sempre uso della comunissima benzina, benzina che può essere quella che uno direttamente va a procurarsi al distributore, ma può essere anche una benzina vecchia tirata fuori da qualche serbatoio che è restato in deposito per tanto tempo. Una benzina che magari non è più idonea a essere utilizzata come carburante perché perde parte delle caratteristiche che la rendono il prodotto ideale per automozione, però insomma come sgrassatore funziona comunque perfettamente. In questo caso io mi sono procurato due vaschette che sono due fondi di bottiglia che andrò a riempire parzialmente con questo carburante, la benzina per l'appunto. Attenzione a non usare il gasolio perché andreste al contrario a lubrificare, a ingrassare, sì in parte detergente ma per lo più va a imbrattare. E poi insomma con l'aiuto di un pennello, in questo caso anche un pennello già sporco ma inutile prendere qualcosa di particolarmente pulito perché poi vedete con un oggetto del genere in due passate e diventerebbe zozzo all'inverosimile. Quindi ora semplicemente io mi vado a riempire per metà queste due vaschette, ne uso due perché in questo modo ho la possibilità di fare una prima pulita grossolana, quindi ogni volta che passo il pennello chiaramente lo vado a sporcare la mia vaschetta perché ripetendo l'operazione capirete che questa la prima si sporcherà in brevissimo tempo. E con questa prima azione chiaramente la superficie esterna andrà ad assorbire quello che è la benzina, la benzina chimicamente farà l'effetto di ammorbidire un pochino tutta quanta la porcheria e soprattutto gli oli e i grassi depositati all'esterno. Non intacca le parti metalliche, questa è la caratteristica migliore della benzina utilizzata in tale contesto. Uno potrebbe magari pensare di utilizzare un prodotto per la pulizia dei forni che fondamentalmente aggredisce in maniera tenace tutto quello che è grasso, incrostato eccetera, però è anche vero che aggredisce anche quelli che sono i metalli. Quindi laddove avete a che fare con metalli galvanizzati, nichelati eccetera, vi trovereste delle bruttissime macchie perché comunque i prodotti per la pulizia di forni vanno intaccare ferocemente proprio quelle che sono le superfici. Quindi in questo caso meglio di no. Iniziamo subito, io già preventivamente ho coperto un pochino i punti sensibili, le parti di accesso all'interno della mia pinza dei freni e ora in maniera molto semplice vado a spennellare la parte esterna in maniera, ripeto, assolutamente grossolana con la benzina. Vedete? In maniera anche un pochino abbondante all'inizio perché mi interessa, mi preme che arrivi ovunque. Si usa benzina anche perché a un certo punto è uno sgrassatore assolutamente funzionale e di facilissima reperibilità se lo dovete ovviamente comprare al distributore perché magari insomma non avete benzina di risulta e poi insomma ha il vantaggio che per quanto riguarda la rimozione una volta che avete terminato di effettuare il lavoro evapora solo quindi non c'è nemmeno da penare, da tribolare per andare a ripulire il pezzo. Certo è che volendo quando avete terminato di fare i passaggi con il pennello potete utilizzare tranquillamente una pistola di questo tipo in unione col compressore caricata sempre a benzina e dare la pulita finale a spruzzo ad alta pressione. Una cosa importante e la devo sottolineare è non usare mai spazzolini di questo tipo, spazzolini metallici perché come ho detto prima possiamo lavorare con metalli verniciati, con metalli trattati o nichelati e uno spazzolino metallico andrebbe chiaramente a rovinare la parte protettiva dell'oggetto che vogliamo ripulire e andremo a fare chiaramente un clamoroso autogol. Invece è possibile utilizzare con assoluta tranquillità quelle che sono le normali spazzole per spazzole da scarpe ad esempio hanno le setole in nylon quindi insomma così come un pennello di questi qua economici potete andare a fare un'azione particolarmente forte dal punto di vista meccanico e se l'oggetto che dovete andare a ripulire ha una forma compatibile proprio con quella che è l'uso di una spazzola insomma potete avere comunque un risultato ottimale. Ora come vedete pian piano la mia vaschetta si va sporcando vanno restando quelli che sono i residui che il pennello stesso si va a richiamare io mi sono procurato una grata da questa mi pare che sia una grata da barbecue ma va bene una grata qualsiasi per non avere un deposito di residuo di benzina man mano che effetto questo lavoro poi insomma quello che è il residuo va gocciolando di sotto in questa vaschetta che poi tranquillamente potrò andare a ripulire e utilizzare tutte le volte che voglio. È un lavoro dove fondamentalmente bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di spazio anche perché poi le setole del pennello tendono a schizzare in maniera un pochino improvvisa e quindi meglio fare questo lavoro dove non vi dovete preoccupare anche di imbrattare un pochino tutto ciò che sta attorno. Vedete io qui ho messo questo questo pezzo di scatolone quindi andando a pulire in questo modo andando a spendelare in questo modo è normale che schizzi da questa parte. Poi ora man mano che passo poco a poco quello che è terra, polvere, grasso e compagnia bella si va rimuovendo la cosa chiaramente va in maniera molto molto progressiva e poi insomma passerò all'altro contenitore con la benzina più pulita proprio perché a un certo punto arriva il momento che questa che sto utilizzando non andrà più a pulire ma semplicemente andrò a riportare in cima lo stesso sporco che piano piano ho rimosso. Diciamo che è un lavoro da fare in vari passaggi tanto quanto basta per raggiungere la pulizia che desideriamo per poi andare a fare il nostro lavoro, la nostra manipolazione dell'oggetto. volendo potremmo anche sabbiarlo e saltare buona parte di questo procedimento però ovviamente non è che tutti quanti hanno a disposizione una sabbiatrice per fare un lavoro di questo tipo. Qui stiamo parlando sempre di avvicinarci a questo tipo di pratiche in maniera molto molto amatoriale ma comunque efficace quindi vedete con pochissimo con in realtà anche meno di mezzo litro di benzina un un pezzo così fortemente imbrattato e qua non c'è proprio ombra di dubbio per quanto riguarda il fatto che lo sia insomma riusciamo poi a pulirlo in maniera direi abbastanza efficace ora gli do una girata ma avevo questa girata ecco vedete di sotto comunque arriva a bagnarsi però è utile unire a quello che è l'intervento chimico del prodotto anche e soprattutto l'intervento meccanico di quelle che sono ovviamente le setole del pennello che ci passano di sopra tutti quanti ci auspicheremmo di comprare un prodotto professionale di immergere il pezzo nel prodotto professionale dopo che so un'ora tirarlo fuori perfettamente pulito questa è ahimè una fantasia che anch'io ho condiviso con voi in questo momento per tanto tempo ma purtroppo prodotti che facciano questo tipo di lavoro non ce ne sono ci sono sì quei prodotti professionali che vi dicevo prima ma poi insomma devono lavorare in vasche dove comunque si va a concretizzare un movimento tale all'interno non parlo semplicemente di ultrasuoni ma un movimento meccanico dove ci sono delle delle spazzole delle vere e proprie lavatrici per pezzi particolarmente ingrassati sporchi imbrattati che comunque alla fine quando si tira fuori il pezzo da quella brodaglia che chiaramente diventa sporca nera e schifosa necessitano alla fine di una passata di pistoli di compressore con tanto di vaschetta come avevo fatto vedere poc'anzi per raggiungere insomma un livello di pulizia eh maneggiabile diciamo così vedete pian piano ecco ho terminato tutto quello che era il contenuto della prima vaschetta chiaramente continuando vado a riproporre rimettere quello che era la 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 parte più sporca il residuo che già avevo tolto dal dal pezzo non fa niente perché poi insomma con la seconda passata all'occorrenza ne potete fare anche una terza la quarta poi vedete voi andiamo a rimuovere quello che in realtà era il fondo della prima vaschetta in questo momento già siamo a buon punto non si vedono più pezzi di pezzi incrostati pezzi di terra ancora residui mi raccomando usate i guanti perché sicuramente non fa bene il contatto della pelle con un agente chimico come come la benzina se poi insomma fate questo lavoro all'aperto ancora meglio anzi insomma io ve lo consiglio e se volete usare anche una mascherina di quelle con filtro non quel giocattolo che vanno ultimamente di moda beh mettetele io in questo momento non la uso perché sto facendo il video mi sto sacrificando per voi come si dice e vedete il pezzo si sta ripulendo anche se suppongo temo che a video non sia così evidente in ogni caso amici amiche questa pratica di utilizzo della benzina insomma va bene un pochino per tutto è quando anche doveste andare a ripulire che so la guida il binario della della tapparella perché qualcuno ci ha messo in maniera scriteriata del grasso e dovete si è impastato tutto e la tapparella sporca imbrattata scorre male beh che ve lo dico a fare coprite bene la zona di lavoro per non imbrattare magari tutta quanta tutto quanto il pavimento ma con la benzina potete fare veramente un buon lavoro lì in quel caso carta di giornali dice ma i giornali non ci sono più non esistono più i giornali da leggere metteteci sotto un tablet allora non lo so e poi insomma ragazzi il risultato viene da sé purtroppo l'olio di gomiti cosiddetto è insostituibile questi sono mestieri che non si possono fare via computer come magari qualcuno si auspicherebbe o vorrebbe farci credere la manina dell'operatore che si sporca è necessaria ma per fortuna come dico sempre io hanno inventato i guanti con questo è tutto io continuo nella mia opera dopodiché semplicemente aspetterò che si asciughi la benzina e poi darò una passata con un panno più pulito per rimuovere quelle che sono gli ultimi residui importante che quando lasciamo ad asciugare insomma non si creino delle per così dire piccole pozzanghere sul pezzo su su dei punti dove la benzina non possa non possa colare giù perché altrimenti insomma proprio in quelle piccole pozzanghere vi ritrovereste un accumulo di zozzeria e quindi insomma avreste fatto il lavoro al 70 per cento d'accordo un saluto e alla prossima ciao ciao ciao